Rieccoci, Primo Sinterpares, consueto appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, vi ricordo che siamo indietro anche sulla pagina Facebook, come abbiamo già detto nella prima parte, oggi è il primo di agosto, ieri c'è stata la firma all'ospedale, ne abbiamo parlato in maniera molto ampia e ovviamente adesso andremo a trattare anche tantissime altre cose. Io nella scaletta ne ho tantissime, Sindaco Giordani, allora inizierei così tanto per parlare del servizio degli autovelox, che sono stati controllati, non funzionavano bene, sono stati sospesi un po', andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo con lei. Sono state sventi 8 delle 12 apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni relative all'eccesso di velocità, meglio conosciute come autovelox, posizionate lungo l'anello delle tangenziali di Padova, e questo a causa di lavori di manutenzione di dispositivi stessi. Con cadenza annuale, tutte le apparecchiature sono state controllate per verificarne la conformità ai requisiti previsti dalla più stringente normativa entrata in vigore la scorsa estate, con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fissa regole più precise per la gestione dei velox. Gli 8 apparecchi più vecchi non sono risultati idonei all'utilizzo, ragion per cui sono stati sventi e contemporaneamente è stato attivato un piano di manutenzione, che ne prevede la sostituzione del solo corpo di lettura degli impianti. Entro settembre i dispositivi saranno tutti ripristinati, tre già in questi giorni. Rimangono tuttora accese le segnalazioni luminose che indicano la presenza di dispositivi, come prevede la normativa per le strade sottoposte a controllo. Tutto vero? Ecco, com'è la situazione oggi per quanto riguarda... Stanno facendo manutenzione? Ecco, ma sono funzionanti oppure no? Sì, ma sono funzionanti. Man mano che vengono aggiornati sono funzionanti. Non è che uno abbia la futura, non funzionano tutti. Ho preso anch'io le multa tranquilli. Man mano che non funzionavano o che non erano correttamente, non seguivano le disposizioni di legge, automaticamente vengono rinnovati, sostituiti o aggiornati. A volte di fine agosto vengono tutti a posto. Vengono tutti a posto, quella poi è una cassa continua per il comune, presumo... Che poi le dirò che non c'entra il comune di Padua. C'è quella curva della zona... A 70 allora? Eh, quella è proprio una cosa... Non c'entra Padua. Non dico che il comune è perché non voglio... No, lo dico io, è il comune di Abbignaccio, lo dico io, mi chiedo di dire lei. È una cosa ridicola, lo dico, lo confermo. Ci sono moltissimi telespettatori che ci mandano, ecco, proprio in prossimità tra poco, dall'altra parte, arrivando dall'autostrada o dalla tangenziale per arrivare, per andare allo stagione. Basta andare più piano? Sì, no, ma non è questione di andare più piano, è che uno non se ne accorge. No, no, parlavo di 90 all'ora, uno va più piano. E uno, per esempio, quando arriva anche dalla tangenziale, non ricordo mai il nome della tangenziale, chiedo scusa, quella che arriva dalle uscite di Padua Ovest, arrivando da Vigo d'Arzare, c'è una segnaletica 40 all'ora, la presente qual è? No, c'è un tabello grande sempre 40 all'ora. Due, le chiedo due cose, uno, se è funzionante davvero quella... Non lo so, io vado a 40 all'ora. Lei va da 40 all'ora. Però può avvisare chi ha messo quella cartella di metterla prima dove è la multa e non dopo? Perché c'è la colonina e dopo c'è il segnale di 40 all'ora. Ho visto, ho visto, ho passato spesso a volte. Ecco, lei ha visto che passa spesso. Magari chi l'ha messa, se la mette prima in modo di avvisare correttamente quelli che corrono, è 10 anni che lì nessuno ha mai detto niente. Uno corre, magari fai 50 e prende la multa, 5 metti dopo, 10 metti dopo, c'è il segnale di 40. Magari metterla prima cosa dici? Non mi ricordo, sono abituato a rallentare. Io dico io, guardi, per certo io dico. Avviserò. Eh no, magari la controlli, se possono spostarla, avvisare prima i... ovviamente c'è una... Però a termini di lese, penso, nulla abbiamo fatto a casa. Ma delle volte... Forse lei non l'ha visto bene. Sì, non ho dubbio. No, ma c'è l'avviso di Correppiano, però quello luminoso è dopo la colonina. Magari metterlo prima, tutto qui era... Farò fare una verifica. Sì, e magari non fanno apposta per dare più multa, insieme a me qualcuno... No, no, non esiste questo concetto qua. Può essere, in tanti paesi del nord Italia, fuori di Milano, proprio c'erano i semafori che scattavano velocemente proprio per fregare, uso questo termine che non è che bello, il cittadino. Non c'è un accanimento contro gli automeristi da parte dell'amministrazione. No, questo no, però l'avviso magari di... E' come il cosiddetto T-Red, che se è nata la favola, basta che passi mezzo metro e prendi una multa. Non è così, vengono tutte verificate una per una, chi ha preso la multa è veramente passato con il rosso. Certo, poi quel segnale che ne dicevo, mi giunge notizia, non so se è vero o no, che non è funzionante anche, però è un bel dettaglio, quello di 40 all'ora, la colonina, non è funzionante. Questo non lo so, io vado piano. No, andiamo tutti piano, perché magari non serve dare la multa, è un deterrente quella con il segno numeroso. Non si può, non può funzionare per legge come deterrente. Può essere sia rotto o non funziona, questo non lo so. Sì, no. Però non può essere, non si possono mettere dei finti autovelox, tanto per essere... Non ho detto che è finto, ho detto che mi è giunta a voce che non è funzionante, magari sarà il momento disattivato. Basta provare, prossima volta passa 80 e vediamo, se prendi la multa vuol dire che funziona. Passare 80 è impossibile perché uno va fuori strada. 70-60, uno riceve la multa e dice funziona. Funziona, se non funziona sono felice, farò sempre... No, lì è un po' anche difficile, era solo per andare di fuori, è una battuta solo perché il segnale era dopo la colonina. Senti, prima parlava delle tangenziali che sono davvero, per quanto riguarda il traffico ormai al limite, specialmente negli orari di punta, quando la gente va a lavoro a mattina o quando termina la sera, ci sono delle cose spaventose. Lì in mente ha studiato qualcosa? No, bisogna ragionare, la viabilità è una cosa molto complicata e difficile. Penso che bisogna... già il vice sindaco sta lavorando su questo. È un argomento molto difficile in cui sicuramente l'asporto pubblico aiuterebbe moltissimo. Però bisogna capire anche in termini di viabilità, perché siamo veramente... Adesso ho anche poco modo di girare, le tangenziali sono sempre più o meno le stesse zone, però so che sono veramente... la difficoltà di circolazione è molto elevata. Bisogna pensare a qualche soluzione, che può essere aumentare certe tangenziali, e approcciare al grasso, sono tante soluzioni, però devo dire onestamente non ci ho mai messo del tempo personalmente. Anche perché già da un anno ci ho fatto parecchie cose, insomma al di là di tutto, e non ci ritorniamo sulla fiera, ricordiamo che è stata un'altra opera che lei ha fortemente voluto. La fiera ha chiuso oggi nel senso stretto del tema. La firma finale è stata fatta due ore fa, per cui i francesi sono usciti dalla compaggia societaria, devo dire anche loro sono comportati bene, è stato molto difficile il passaggio. Era arrabbiato un po' con i francesi, adesso si è cambiato. Un pochino. Lei poi è un buono, si arrabbia poi di... Alla fine mi interessa il bene del Padova, per cui mi arrabbio, poi me la faccio passare. Arrabbiarsi non serve tanto, bisogna trovare soluzioni nelle cose. Alla fine tutti assieme abbiamo trovato la soluzione, devo dire merito la Camera del Commercio, merito dei miei consiglieri in comune, merito Gigeo, merito GL Eves, merito un po' di tutti. La fiera è ritornata a Padova. Sarà un bel investimento, Sindaco, oppure sarà anche, tra virgolette, un impegno importante per riportarla inutile, insomma. La fiera è un bene importante di Padova. Era un problema, appena letto l'ho capito che era un grosso, grosso problema. Una cosa ho detto, non possiamo chiudere la fiera. Costi quel che costi la fiera deve stare aperta. Ma non trova, mi scusi se ne interrompo, Sindaco, non trova che sia più opportuno oggi con quello che succede, di fare una fiera regionale per tutti. Invece a Padova c'è la fiera, a Verona c'è la fiera, a Vicente c'è la fiera. Qualcuno doveva pensare a 30 anni fa a questa soluzione. Ormai questa è cambiata. Adesso dobbiamo avere una grande opportunità di cambiare l'aspetto della fiera. Nel senso, non è più possibile fare fiera tradizionali. Deve inserirsi in un aspetto tecnologico più avanzato. C'è lo studio in collaborazione con la regione, con la fondazione Cariparo, Camere di Commercio, sempre tutti assieme, di vedere i falsi assieme all'università, di porre il lab dell'innovazione all'interno, con le aule di ingegneria. E' una soluzione molto interessante, che tutti siamo interessati in quanto a un lab dell'innovazione, vuol dire contaminazione della città, vuol dire che la città cambia aspetto e la fiera cambia aspetto. E' un aspetto, mi ripeto, molto interessante, che stiamo avvalutando e penso che fine agosto, settembre dovremmo definirlo. E' un salto di qualità che si fa tutti assieme. E siamo molto interessati tutti a Padova. Dato che ci siamo all'auditorium, com'è la situazione? L'auditorium, mi ero sbagliato, qua ho sbagliato. Avevo avuto modo di vedere il palazzo Foscarini, piazzale Rimitani, un mese e mezzo fa. Quando sono entrato per la prima volta ho visto che era perfetto. Per cui mi ero illuso di dire, e avevo illuso anche il presidente Fassina, che si potesse entrare subito come conservatorio. Mentre così non è, nel senso che il palazzo è perfetto, ma deve essere, per portare dentro degli studenti, è molto più complicata. Sotto l'aspetto incendi, salute. Per cui abbiamo deciso alla fine che saranno fatte due step. Per cui la prima parte che riguarda il conservatorio è parte di Palazzo Foscarini. E una seconda parte che riguarda tutto il conservatorio finale. tempo, due anni e mezzo o tre, non meno, per completare il tutto. L'unica cosa certa è che c'è stata la promessa formale dell'amministratore delegato Messina, che è il CEO di Intesa, e della fondazione che il tutto avrà fatto, il 100%. Due anni e mezzo o tre. Stanno verificando sotto l'aspetto fiscale la cosa come può funzionare. Sono contento perché in questo termine qualche suggerimento magari in esce, che parlando, e in tempi non sospetti avevamo parlato di giardini nell'arena, se si poteva fare qualcosa e ci fa qualcosa. E si fa qualcosa di importante. Mi avevo chiesto dei bagni pubblici, mi sembra che anche lì si faccia qualcosa. Avete fatto una conferenza dove per Natale dovrebbero arrivare dei bagni in una città che non ne ha, perché effettivamente la città non ne ha. Se ne ha pochi, insomma, mi scuso se ho detto che non ne ha. E poi l'altra cosa, la chiedo per cortesia, faccia togliere quelle strisce rosse vicine al cappella dei Scrovegni, che sono orribili nel vederli. Se si può fare, si aspetta lei. Ci sono fuori, ancora dei lavori in corso, non lo so, ma è una vita che ci sono, non so se rimarranno sempre. E sono quelli proprio come nei cantieri edili, che sono sempre quelli rossi. Non l'ho presente, so che l'assessore Collasio sta mettendo mano sia le indicazioni su tutto l'aspetto turistico e anche l'ingresso del giardino dell'arena del cappella dei Scrovegni. Ma dovrà essere fatto a settembre. È un pezzettino che non passo. Prima passavo... Ma secondo me è una cosa straordinaria di Padova, una delle perle di Padova. È una cosa importantissima, è una cosa importantissima, per cui va valorizzata. Quando passeggiavo alla sera a quel canale, spesso volentieri mi credevo, dov'è la cappella dei Scrovegni. Il 17 novembre faremo un primo Sinterpare proprio al Bodo, dove sarà presente anche lei, sarà presente il Ministro della Cultura, sarà presente il Presidente del Senato, dove parleremo appunto delle otto meraviglie della città di Padova, che dovrebbero andare a far parte dell'UNESCO. E il Giotto è una di queste, per quello le chiedevo se magari riesce a far togliere... Non so come si chiamano in termine tecnico quando c'è un cantiere che mettono tutto per riparare l'entrata della gente, mettono, sembra, delle pezze di carta russi a quadretti. Sì, sì, ho capito, è la segnalettica di pericolo. Sì, è la segnalettica che c'è il lavoro. Ogni volta passo la vedo e dico, ma guarda quanto brutta è quella lì. E senta, poi c'è un'altra cosa molto importante, c'è la rigenerazione del PP1. Allora andiamo a vedere questo servizio e poi cerchiamo di parlarne con lei. Operai al lavoro nei circa 30.000 metri quadri dell'area da anni abbandonata, se non da sbandati, tossicodipendenti e senza tetto, nota come PP1, situata tra la stazione e piazzale Boschetti. Ecco quindi che dopo quasi dieci anni tornano in azione le ruspe con gli operai di era ambiente impegnati a smontare la struttura, qualche resta di un capannone un tempo ricovero di attrezzi del cantiere che avrebbe dovuto realizzare un grattacielo e delle ville urbane, progetto definitivamente abbandonato. L'area dovrà essere anche ripulita, liberata da ogni rifiuto e bonificata dai resti dell'ex casometro comunale. In attesa che si ridefinisca il nuovo futuro del PP1, grazie all'interesse del Consorzio Stabile Pedrona di Villa del Conte, c'è la possibilità e volontà, in sinergia tra amministrazione e privati proprietari, di rivitalizzare la stessa con delle attività o iniziative provvisorie, che possano essere un parcheggio o ancora un mercato dei fiori, o quanto suggerito dalle idee dei cittadini. Ad ora qualcosa di concreto si muove all'interno di un progetto di rigenerazione urbana che comprende un'area di dimensioni ancora più ampie, con piazzetta Gasparotto, piazza De Gasperi e piazzale Boschetti. Ecco, sindaco, quella è una zona di privati, lei inizialmente ha detto, chiederò per poter fare il parcheggio, ha trovato delle difficoltà, però qualcosina si sta muovendo. Devo riconoscere che in un anno che lei è sindaco, qualcosina al di là delle parole, è stato fatto. Stamattina abbiamo avuto un incontro con i proprietari, i responsabili sotto l'aspetto giuridico dell'area. Non è facile, noi abbiamo chiesto la possibilità, aggiungi incaricato, di poter fare un parcheggio provvisorio. Per questo perché? Se c'è gente, se c'è movimento, se c'è attività, il degrado sparisce in qualche maniera. Non è facile, perché ripeto, sono fallite purtroppo 5 aziende su 6 proprietari, per cui stiamo cercando di dipanare, ed è un anno che sto andando avanti, è veramente complicata, dipanare la matassa per far sì che ci sia un... mi spesso, lei con l'imprenditore, come posso dell'imprenditore 5, come detto lei, acquistare una zona in centro a Padova e non riuscire a fare qualcosa, non l'avranno messo in preventivo. È crollato il mondo sotto l'aspetto edile, lo sappiamo tutti cosa è successo. Sono stati 10 anni di crisi veramente dura, in cui la parte edile ne ha fatto le spese in maniera importantissima, purtroppo, ancora adesso, sta riprendendo un pochino, però non è facile. In quella zona lì siamo al centro di Padova, siamo vicino a 200 metri del Padova di Scoveini e ci sono dei problemi. Adesso, è l'ambiente, come ha detto il servizio, a fine del mese pulirà tutto. Speriamo di trovare la soluzione per settembre, di fare un parcheggio provvisorio. Ovviamente provvisorio, perché non può avere una fine determinata, in quanto la procedura, se l'azienda va in bonus, può partire a costruzione tra un giorno, due giorni, dieci anni, cinque anni, per cui deve essere sempre libera sotto l'aspetto disponibilità del Tribunale. Io mi auguro e spero che... C'è un bel polmone di respiro per i parcheggi? Certamente, sì, sono circa 250-300 posti auto. In più, oggi, anche la provincia, il Presidente Soranzo, ha dato la sua disponibilità, perché in gran parte è del proprietario della provincia. In più, ricordo che il piazzale Boschette, in giro di due anni, due anni e mezzo, diventerà un parco, per cui, ulteriormente, perdiamo qualche parcheggio a Padua. Ma a qualche... tanti vanno bene, ma va meno bene perdere i parcheggi in punti d'Italia, per cui potrebbe essere interessante. Ma è interessante anche che partino, possono partire con l'edificazione del tutto, che deve essere ancora definito, purtroppo. Ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un po' di tempo. Invece, pezzare Boschetti, mi ha detto due anni e mezzo... È già in gara, per cui due anni e mezzo dovrà essere terminato. E lì, penso che venga fuori qualcosa di straordinario. Secondo me, fuori molto bello, lo ripeto, perché non voglio essere mai... È un progetto alla vecchia amministrazione, che ci hanno convinti, bello. Arturo Lorenzoni sta anche cercando di trovare la soluzione per i due immobili coperti, perché vengono rigenerati e ristrutturati. Penso che sia... Eccoli qua. Sono due cose orribili, per cui spero che alla fine vengono ristrutturati. Cambia aspetto a Padova. Padova è una bella città. Com'è la situazione? C'è qualcuno interessante? Sì, sì. Arturo Lorenzoni sta quasi arrivando alla soluzione finale. A me? Sono molto contento. Mi ha dato una bella notizia. Sono molto contento, sono molto contento, perché Padova... non possiamo avere un ingresso di Padova che abbiamo una parte di P1 e dall'altra parte... Magari potevamo mettere la ilave di autolinea, a me non la completavamo, è rimasta ancora senza resto. Io volevo coprire tutto, ma costava troppo. Per cui, insomma, un po' alla volta cambiamo Padova. Padova è troppo bella per avere ingressi di questo livello. Sicuramente. Senta, nel ragionamento dei parcheggi, ovviamente, la gente avete chiuso, ha messo la ZTL la sera, anche lì c'è chi ha contestato, io la condivido che chiuderei tutta la città. Penso che... Chiuderei che Prato è la valle per le persone. Attenzione, tutti se la prendono ancora Arturo Lorenzoni. Non è vero. Non è responsabilità sua. Nel senso, ho incentivato io questa faccenda. Non è colpa di Arturo Lorenzoni, sono stato io. È stato lei. È stato lei colpevole. Perché? Perché? Un semplice motivo. Io devo curare, io, l'amministrazione comunale, non io. deve vendiare l'interesse di tutti, che vuol dire, ristoratori, bar, trasportatori, residenti, che devono poter domicare, devono portare il parcheggiare. Abbiamo trovato una soluzione. Dopo le 23, 30 si può entrare in zona ZTL. Prima non si può entrare. Sembrava che i ristoranti non lavorassero più, i bar non lavorassero più, io sono un padova bella, piena, tranquilla. Bisogna avere rispetto anche di chi ci abita, che tra presi, anche loro sono arrabbiati come me, non è? Ho fatto un plan stavolta, sono tutti arrabbiati come me, anche con Arturo, anche con Bressa, sono tutti arrabbiati. Però noi dobbiamo badare a trovare una situazione che miglia gli interessi di tutti. Secondo noi questa funziona. se per caso abbiamo sbagliato, se teme, ci accorgiamo che c'è qualcosa di sbagliato, lo modifichiamo, non è un problema. Non vogliamo incapponirsi, si fa così e basta. Abbiamo parlato con vari sindacati, LAPE, ASCOM, Convegetenti, abbiamo parlato con i cittadini, abbiamo parlato con tutti. Parlare con tutti, discutere, non vuol dire che facciamo quello che vogliono loro, che sia chiaro, perché se no diventa ognuno basa i suoi interessi. per i cittadini chi abita la Pala dovrebbe essere il silenzio totale. I ristoratori sempre aperti, i trasportatori sempre aperti. Chiaramente dobbiamo trovare una via di mezzo. Basta portare l'esempio di via Roma. Una volta era aperta ora a riaprire quella strada lì che ucciderebbero tutti i negozianti e i commercianti che ci lavorano lì dentro. Senti, invece andiamo a vedere la prondina cosa succederà in questo servizio di Elisabetta Corazza. Prima del previsto rispetto a ogni aspettativa l'amministrazione Giordani ha avuto dall'Agenzia del Demanio le chiavi della ex caserma Prandina situata tra via Orsini e Corso Milano. Via Lucchetto dunque in modo tale che i tecnici comunali possano entrarvi per le misurazioni e valutazioni dell'area. Un primo passo per il recupero di questa zona centrale della città abbandonata dai militari nel 1999 e riaperta solo temporaneamente nel 2015 come centro d'accoglienza per i profughi. Una vasta zona destinata a cambiare di cui una parte verosimilmente dovrebbe diventare un parcheggio la restante adibita a verde pubblico senza dimenticare che una parte potrebbe servire per valorizzare le mura cinquecentesche adiacenti. Tutto però passerà per il concorso di idee rivolto ai cittadini. Ma ad oggi si può solo lasciare andare l'immaginazione ogni discorso è prematuro visto che per diventare realtà il comune deve prima entrare effettivamente in possesso dell'area e questo succederà quando sarà in grado a sua volta di cedere i terreni di Bianelli liberi dalle sei palazzine vale a dire previa acquisizione degli alloggi ancora in mano ai privati ad oggi 87 dei 37 dell'Ater per i quali non si è ancora trovato un accordo e dei locali in passato adibiti a Moschea. questa Prandina finalmente arriverà o almeno un po' di parcheggio perché sarebbe anche quello un respiro per chi vuole venire in centro insomma la Prandina è un gioiellino che abbiamo e che va utilizzato al meglio noi attualmente non siamo proprietari l'agenzia dell'Emmanuel ci ha concesso di cominciare a lavorarci dentro per cui pulire mettere a posto perché ovviamente qualcuno ha visto erba alta due metri per cui i nostri tecnici hanno già cominciato a fare rilievi chiaramente dobbiamo utilizzarla al meglio immagino ma immagino perché l'ho detto tante volte sarà fatto un progetto ascoltando i cittadini ascoltando le categorie sicuramente c'è un parcheggio sicuramente dobbiamo ampliare per quanto riguarda io vi chiedo i tempi però i tempi di mio mio perché quella è la cosa più importante ormai se andiamo a parlare della Prandina se andiamo a parlare della ZTL però uno dice il contestatore dice ok mi chiudi il centro mettimi due parcheggi in modo tale che io possa arrivare non ho detto no faccio fatica a dire i tempi un anno un anno e mezzo in teoria possiamo in teoria possiamo farlo domani mattina se vogliamo in teoria perché abbiamo l'utilizzo ma bisogna c'è un problema di sicurezza all'interno non si possono fare queste cose per cui prima di essere aperto al pubblico qualsiasi cosa bisogna pensarci non ho idea un anno un anno dobbiamo pensare all'ingresso l'uscita immagino che l'uscita del parcheggio sia verso Corso Milano in quanto con questo sistema vuol dire rivitalizzare tutto Corso Milano è una cosa interessante bisogna lavorare con un po' di fantasia si può cambiare la viabilità farla passare in mezzo alla Prandina la parte sinistra dove ci sono le mura ampliare il palco le mura si possono fare tantissime cose abbiamo anticipato nell'immagine il nostro regista ha messo già la domanda successiva che era ovviamente via Nelli dove anche lì avete acquistato gli appartamenti noi diventeremo proprietari della Prandina quando avremo demolito e bonificato l'area della via Nelli dopo aver fatto questo facciamo un cambio pari pari con il demanio diventa terreno demaniale proprietà accumulare la Prandina e il comune acquista che terreno questo comune diventa nostro il terreno e l'area diventa demaniale è un passaggio a vantaggio del comune ha fatto un'operazione a vantaggio mentre via Nelli diventa proprietà del demanio e costruirà la nuova questura di pari non il comune il demanio chiaramente certo per cui bene cambiata la zona e quando inizierete i lavori via Nelli per bonificarla del tutto? quando avremo acquistato tutti gli appartamenti ma io penso che per la fine dell'anno saranno tutti acquistati e fine all'anno inizio dell'anno faremo la demolizione se pensa che riesce a fare questa opera vuol dire che è un'opera che anche quella come l'ospedale che ha 20 anni più o meno non mi ricordo gli anni esatti da quando 22 diceva Zaia Giornato ha messo le barriere che sono diventate famose in tutto il mondo non solo in Italia in termini negativi purtroppo però questo vuol dire rigenerare la zona vuol dire che è un grosso cambiamento per gli abitanti abbiamo promesso che facciamo qualcosa abbiamo fatto qualcosa dobbiamo solo definire di acquistare tutti gli appartamenti l'accordo è entro la fine del 2019 io spero di fare un po' prima queste cose io spero che a gennaio febbraio marzo del 2019 riuscire a fare questo io spero sempre io ci metto in massimo la convinzione faccio le cose rompo l'anima tutti quanti faccio il possibile sempre con simpatia con sorriso anche se non sorrido molto sul sorriso sulle labbra alla fine vedo che tutti mi aiutano che le cose vanno avanti perché è bello fare qualcosa per la propria città a me piace molto sono perfettamente d'accordo su quello che sta dicendo poi mi dicono che sono dalla sua parte perché a volte sai cosa mi dicono in questa trasmissione anzi hanno scritto che sui giornali che è un po' troppo soporifera che io le do sempre ragione che non la contesto mai lei può farmi tutte le domande tanto non c'è problema lo voglio farlo qualsiasi trasmissione poi mi dicono che sono soporifero appunto se lei legge qualche articolo che le ha messo su questa trasmissione che sono troppo buono a fare le domande non so nemmeno io che domanda cattiva può invitare qualcuno a fare domande cattive non ho problemi ma una volta faremo una volta ce ne sono tanti invito Bitonci qui va bene faremo una puntata lei e Bitonci assolutamente è molto impegnato a fare sotto segretario esatto quello che contribuirà anche lui ha detto a fare arrivare i soldi per l'ospedale giusto io non ho ombre di dubbio ha un buon rapporto con Massimo Bitonci anche sotto l'aspetto personale niente da dire sono convinto anche io che può fare gli interessi di padre senza ombre di dubbio prima della pubblicità poi a rientro parleremo dello stadio parleremo dell'arena parleremo di altre altre cose però una domanda mi interessa farle ieri sono usciti i dati in stato dove c'è stato un calo del lavoro c'è meno occupazione 60.000 posti di lavoro in meno quasi 3 milioni disoccupati in Italia le rapporto la domanda qui a Padova com'è la situazione è uguale a quella che dice Insta con i dati nazionali quindi una percentuale di perdita di posti di lavoro o magari noi viviamo un'isola e un terreno felice per quanto riguarda questa tematica non ho gli ultimi dati sicuramente la Camera di Commercio c'è già io penso che la zona nostra sia un po' un'isola felice che funziona abbastanza tutto anche come occupazione non ho i dati puntuali dovrei chiedere la Camera di Commercio che segue puntualmente queste cose ma cosa pensi non siamo messi male anzi siamo messi bene e con lei cosa pensi invece a livello nazionale di questo calo di posti di lavoro io faccio fatica ad entrarmi nei temi nazionali chiaramente ho la mia opinione con Fidusti si arrabbiata moltissimo quelli del Veneto si sono arrabbiati moltissimo con Di Maio tanto per dirla papale papale sì ma io come ho detto sempre io sono un civico come tale la mia logica è non prendere posizioni politiche ce l'ho ma non la prendo pubblicamente perché ho tutto l'interesse di colorare con istituzioni da Roma alla regione alla provincia a me va bene difesa tutti vuole dire insomma le istituzioni da Monti a chi per tutti perché io ho un dovere difendere la mia città far provvedere la mia città io sto cercando di provocarlo lo so ma io devo avere rapporti con tutte le istituzioni perché devo valorizzare Padova questo è quello che mi interessa a me io faccio il sindaco per momento ho un vantaggio ho un vantaggio non ho però non ho un capo politico a cui fare riferimento però ho una città a cui fare riferimento le ho fatte una domanda in effetti che o poi io ho le mie idee esatto io le faccio una domanda non da sindaco ma da imprenditore lei è un iniziatore ma in questo momento è il cappello del sindaco per cui rispondo va bene è il cappello del sindaco però ecco la domanda è a livello di nazionale in questi ultimi mesi c'è stata appunto una perdita di posti di lavoro è una cosa preoccupante o una cosa che si stabilizza in questo determinato periodo e poi magari da settembre si ritornerà io penso che lo capiremo entro la fine dell'anno se è veramente un problema chiaramente adesso è minimale come statistica se se continua di questo passo può diventare un grosso problema e lei c'è secondo lei e qui le chiedo anche dei imprenditori in Italia un rimedio per far sì che le aziende riprendano le produzioni io non vedo lo so che adesso parlo perché lo so perché mi scusi se lo interrompo perché tanti chiedono c'è una ripresa ma valati dicono tutte bugie ma senti sempre in giro tutte queste cose c'è una ripresa leggera lenta ma c'è una ripresa ci continua a essere parlavo anche stamattina con banche c'è una leggera ripresa parlo del territorio nostro c'è una leggera ripresa anche per quanto riguarda l'edilizia si sta muovendo Milano proprio esempio Milano in formento continuo sta muovendosi velocemente Milano sta facendo veramente grandi passi avanti per quanto riguarda la nostra zona non è assolutamente male si muove bene io concepisco il lavoro cioè io ho dei negozi attualmente non li sto seguendo se qualcuno mi dà garanzia che il fatturato è sempre uguale io posso dimensionare la forza del lavoro i miei collaboratori in maniera costante ma se il fatturato non è costante è difficile per un imprenditore misurare il fatturato senza avere la conseguenza logica cioè se oggi faccio un milione e domani faccio 900 mila devo avere una certa flessibilità questo è chiaro se no non funziona uno dice ma il costo del lavoro oggi è il costo più importante che abbiamo e non per colpa del lavoratore perché il lavoro costa troppo in Italia però ci attraverso sentiamo un tema molto difficile una domanda che andava di là del sindaco che mi interessava sapere il suo pensiero è molto complicato e questo e-commerce continuerà e andrà sempre in crescita o secondo lei prima o dopo anche l'e-commerce avrà uno stop perché succederà che anche loro devono aumentare i prezzi non potranno più vivere con dei prezzacci come lo fanno ora il commerce sta mettendo in riguardo tantissime categorie economiche in particolare a me mi preoccupa il centro storico che ne subisce le conseguenze purtroppo sta ogni anno aumenta del 10-12% e penso che nei prossimi anni migliora sempre di tutto però vede sindaco mi scusi se lei fa una via nel rapporto che il centro storico è in difficoltà prendi un esempio una via che non è una via ricca a livello di valore però via Roma via Umberto I l'ha valorizzata la città i negozi che sono tutti di medio con tutto rispetto ai negozi non sono di grandi firme però lavorano quasi tutti insomma non mi sembra che ci siano negozi che li trovi chiusi se tu vai in qualsiasi altra parte della città termina la domanda trovi gli negozi chiusi la domanda che le faccio creare quelle soluzioni tipo via Roma in altre zone di Padova può essere una medicina per guarire da questa malattia che ha ricommerci può essere non è una malattia è un'alternativa ovviamente di lavoro che va a sviluppare altri interessi altri settori a scapito del tradizionale può essere l'ASCOM e i conflaggiacenti stanno studiando molto questo discorso stanno cercando di valorizzare il centro di Padova con l'aiuto del comune è molto importante questa parte dipende dal consumatore io non sono un consumatore e-commerce se io devo comprare un abito voglio toccare vedere i ragazzi la pensano in maniera diversa cambia la metodologia anche perché si vestono in una maniera che è una taglia molto più semplice il paragone di via Roma è importante sarebbe bello a Padova avere tanti via Roma ad esempio la Prandina può rivitalizzare completamente Corso Milano anche non solo in termini commerciali ma anche in termini estetici sia Simone Piliteri che Borile non lei ma Simone Borile Pentastellato ha proposto anche delle idee innovative per quanto riguarda il Corso Milano come bello perché è bello avere cose belle è da pensarci perché può essere veramente un'alternativa per cui unire il parcheggio a una viabilità dolce pedonale che arriva fino in centro può essere una cosa interessante con una pista ciclabile magari con una pista ciclabile con marce per il via è una cosa con cui bisogna riflettere e pensare e ci stiamo pensando certo va bene noi andiamo in pubblicità poi l'ultima parte invece parleremo dello stadio parleremo della nuova arena parleremo di altre cose con il sindaco Sergio Giordani voi rimanete con noi tra poco